Con la richiesta di visita filtro da parte del medico curante, sempre il medico di medicina generale, il paziente può essere indirizzato al deospita dove segue per esempio terapie che sono specialistiche che possono avvenire solo in ambienti ospedalieri. Faccio per dire che alcune terapie a base di ferro per pazienti anemici si fanno in deospita. Il paziente fa l'infusione in piena sicurezza perché è in ospedale e poi va a casa. Lo stesso vale per le emotrasfusioni di pazienti anemici cronicamente tali che devono fare delle emotrasfusioni periodiche oppure che devono infondere dei farmaci speciali, cosiddetti in fascia H, cioè dei farmaci ospedalieri per patologie croniche. Penso per esempio alla sclerodermia o altre patologie per cui i cicli terapeutici vengono effettuati con più accessi del paziente in ospedale, in deospita, senza passare per il pronto soccorso, senza essere ricoverato e con il ritorno a casa del paziente, quindi dando così meno problemi all'intero nucleo familiare. Dottore, possiamo dire che è un ospedale che funziona molto meglio di quanto recepisce il territorio? Purtroppo sì, nel senso che forse abbiamo una difficoltà nel comunicare, ma abbiamo una serie di servizi che sono assolutamente alla pari agli ospedali continentali. Poiché nemo profeta in patria, spesso abbiamo questo tipo di indicazione da parte del territorio che magari non sa quali sono i servizi offerti all'ospedale, cioè non soltanto il deospita, ma ci sono, almeno per quanto riguarda la medicina, una decina di ambulatori, ma ce ne sono altri gestiti dalla cardiologia, dall'ortopedia, dalla chirurgia, che sono ambulatori specialistici e che servono ai pazienti che pur stando al proprio domicilio vengono ad effettuare visita per diagnosi e quindi anche per un indirizzo terapeutico col quale poi si dirigono dal proprio medico di medicina generale.